...michelle! Vai! Vai Michele, vai! Dove vai? Vibili! ...michelle doppio! Doppio! ...michelle! ...michelle! Bravo! 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 Capo 7, prossimo incontro, incontro 7-0-8, si presentino Chiarotti, Federico, Corazza Blu, Camirani, Mario e Corazza Rossa. A seguire, a campo 7, incontro 7-0-9, si preparino Chiarotti, Neme, Corazza Rossa, incontro 7-0-9. Andriana, vai Nicola che finita, Andriana non si dice, non si dice, Paola è finita.